A DUNO SOLITO A DUNO SOLITO O bello come quella lampada che l'ha bronzato Ma guarda ancora, un altro ancora, un altro e un altro ancora Virtual rampanti dell'economia dell'ultima ora E adesso pausa, pranzo svelti e ora di mangiare Dentro i paspù che son mangiatoie per risorse umane Che c'è senza pastore che non fa rumore Che lascia in terra escrementi senza odore Mi lascio andare dentro questo umano vortice Che prima ti riscalda poi diventa forbice Sono anch'io parte di un'offerta sempre più globale Che adesso puoi chiamare risorse planetarie Evviva andiamo tutti quanti uniti a festeggiare Dentro i fast food che son mangiatoie per risorse umane Risorse umane Risorse umane Risorse umane E il suo suo manè Grazie a tutti.